D'occupazione pacifica, da un principio azzovine, a via pescovo di Vabale e Barretta di Ajuventù ingira questa decisione. Dopo questa giornata di mobilizzazione unitaria di Ajuventù, abbiamo un sudo per passare un messaggio forte a Zujetta. D'un'altra banda, abbiamo un sudo e si rigevano in Prefettura e Bastille. La nostra reivindicazione è stata di impegno a ripresarie giuridiche di un Stato di vita ai nostri militanti, che il governo si pone simica a un ricorso che ha da mandato le dividere. Il servizio di Prefettura c'è un promesso IVA regolare la nostra reivindicazione in Parigi per via di un brevetto. D'altro, aspettiamo la risposta del governo per la nostra reivindicazione. Stiamo avendo la decisione di Milnero. Dommando a un'adjuvante a un'adjuvante a un'adjuvante a San, di sta mobilizzando a l'Abbene. E io a l'Ingo a Gors e io a l'Asione. E io a un'adjuvante a un'adjuvante.